Salve ragazzi, vengo di la seconda bonus battle di Seasour story, qui dovremmo affrontare Geosgaino. E' un boss spettamente fisico con parecchie debolezze, fuoco, ghiaccio, fulmine, acqua e oli. Tra gli obiettivi abbiamo ridunne la difesa, ridunne l'attacco e colpito su dei poizzatori. Questo boss ha un attacco particolare, Swallow, che interrompe l'azione di un personaggio e dopo un po' fa l'attacco che lo regurgita. Se il personaggio che è stato regurgitato riesce ad attaccarlo, lui lo sputa, facciamo danni percentuali solo a lui. Se non ci riesce, lui lo sa regurgitare prima, fa l'attacco in percentuale a tutta la squadra. in percentuale a tutta la squadra. Ecco, ne sta già prendendo uno. E' questo si è silvio. si va dai non è anche il tempo di fare un'azione totalmente non ha fatto moltissimi danni ha fatti 1.500 a testa comunque sono basati sui hp correnti del personaggio i danni quindi in teoria non potrebbe uccidere con l'attacco quel qua si è andato giù ora pure se sopravvive ora anche i danni fuoco che può usare squall corrento kooker ma è morto il boss è abbastanza semplice ha dei bei attacchi fanno comunque bei danni però ha eccessive ha moltissime debolezze che vanno tantissimo a nostro vantaggio con la cura d'aria andate tranquilli il protetect soprattutto veniva i danni grazie per l'abitazione a breve prossimi grazie ciao